Ah, questo è male! Perché ormai, non lo so, ci sto giocando spesso ormai col medico, non lo so perché, l'amore E stiamo giocando con un'arma che forse non ho mai comunque sia, comunque sia fatto vedere sul canale Ovvero la soluzione rapida Con la soluzione rapida va a essere il crociato e l'Ubersaw E vediamo cosa riusciamo a fare Tiè, sparo proprio in mezzo così Qualcuno lo colpirà, no? Ok, è ora di... Oddio! Ecco, c'è una spia Presa E sì, come vedete la mappa un pochino Sta andando a scatti Ma non ho drop di FPS, vorrei far notare Proprio la mappa che mi va a scatti così E non so, succede a tutti voi? Stavolta si vede anche bene, come potete notare Siamo su un server decente Quindi si vede tutto, è tutto molto molto carino, molto bello E giusto stamattina ho fatto il contratto su sta mappa Dovevo vincere tot partita E qui, signor medico, siamo messi nella merda Lo sai? Vediamo se riusciamo a ucciderlo Seguiamo il tizio qua Forse riesce Forse però Penso di no, non sa usare il fucile Ammazzalo Grande così Ok, ce l'ha fatta Ok, prego Perché mi ha detto grazie Mi ha scritto Preso Ed era pensato Non l'ho fatto per sbaglio Attenzione qua Super spie Era qua davanti Era gacchio Ogni volta però Non si può fare così Io ho l'uber carica pronta No, dove è il medico? Vieni qua gacchio Vieni, vieni, vieni Vai, scoppiali Massacrali Dietro di te Non gliene frega niente Ma allora io me ne vado Ciao Beh, frega proprio niente di te No, non sono una spia Vieni qua Vieni qua Ok, come potete vedere Come anche ne ho parlato sul 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 commentary che ho fatto Sta mappa Come potete vedere Si basa soprattutto su questi due punti Sono molto vicini E tutta quella parte lì in fondo È inutile Praticamente Non ci fa a me nessuno Ops Mi stavano per uccidere Grazie Gianca Oddio Grazie signor medico Salgo con te Mi ha forse salvato Scappiamo in maniere strategica e strane Vai No, c'è una spia lì in mezzo L'ho vista L'ho vista tanto Ho visto una spia Ho visto roba rossa Da cacchio è andato? L'ho sentita Ho sentito una spia Gente, sono paranoico Però l'ho sentito Merda Preso In pieno Ma che Che succede? Che succede oggi? Tutte le sto Tutte le sto centrando Non fa Tranne questa Questa non lo c'è Lì in fondo c'è qualcuno Preso Micidiale Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Però forse abbiamo vinto Mi pare Giusto un pochino abbiamo vinto E vai Ma davvero Ok Il medico Come potete notare Serve parecchio La squadra Siamo tre medici Stiamo vincendo Così Ah ok Vuoi ballare tizio Tiè Ok gente Partita vinta Nuova parte Nuova zona Siamo su powerhouse Tutti di controllo E al momento Non c'è nessuno Perché stanno tutti attaccando Quindi forse è meglio Se vado verso Dove sono i miei amici E li vado a curare Vediamo un po' Oggi Oggi Casu 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 Non si passava qua Non l'ho giocata quasi niente Sta mappa Quindi Quindi Ops Aia Ok allora Lì non Non c'erano più Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Andiamo vai Portami con te Portami con te Perché come sapete Uber Non Uber E Col Con Con sta cacchio di roba Sono tutti qua Dio male Ma Vi mollo male Io Guardate questo Vai amico Vai vai Corri 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 Immortale Lo scout immortale Sto facendo diventare Guardali Vieni qua Così Vai 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 Ti curo io amico Vai tranquillo Però Io non posso Starti attaccato così Quindi Vai Vai Fai attenzione Per qua ci muoio io Al posto Ecco Meglio se me ne vado No Seguimi Mi ha seguito Ma era qua Cacchio è andato E' sparito Comunque Casudokta oggi Casudokta Questo è una spia Sembra di no Ti sto a fianco amico Ammazzalo Ti prego Ammazzalo Perché te ne vai via Però Cazzo E dai Però cacchio C'è un medica a fianco E vieni verso di me Perché scappi D'altra parte C'è gente Che alle Questo cosa sta facendo C'è gente Che alle volte Ha proprio Una percezione Dello spirito Vai via Adesso Vado io Che palle Ciao Vai attaccalo Ma vado con Con lo scout Mi sa che faccio prima Ammazzatelo Vai 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 Guardate come corre Fiero Popo fiero Corre Vai Andiamo Su 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 Attacca 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 Perché nessuno attacca Attacca Non così diretto però Attacca ma non così diretto Normale attacca Oddio C'è la male C'è la morte con me Ok Ho la carica attiva Per lo meno Vai 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 Buono lì Buono lì Ma quanto siamo utili Con queste genti Quanto siamo utili Vai su Io ringrazio Anche se sono io Che sto curando Faccio thank you Vai 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 Non ce l'ho fatta Mi spiace Non ce l'ho fatta Vai via da lì Chicco vai via da lì Bravo lì Mi sono dimenticato Perché ho detto Lo faccio l'ultimo Tanto la uber Normale Non è vero La soluzione è rapida E quindi c'è morto A causa mia Ma non fa niente Ciao Questa spia è geniale Le ha fatto bonk E le ha fatto un colpo Così Merda Ma io me ne vado male Vieni verso di me Vabbè Eh vieni verso di me Ti ho detto Tizio bello Devi followare Devi followa qua Perché ti vai a riparare lì Vieni qui Siamo scout E lei è anche mancato Ok Oggi seguiamo Seguiamo Gli scout È la roba migliore Che al momento Guardate quanto mi si blocca Sta mappa È una roba impossibile Sono proprio le nuove mappe Fanno fisso così Mi si bloccano ogni 2x3 Ma i miei fps Sono normali Ve lo giuro Ve lo giuro I miei fps Sono normalissimi Quindi Guardate Proprio Non è successo Niente di particolare Dove cazzo siamo andati Quello era un critico Che ho evitato Tantissimo Boh Fai esplodere Che cazzo fai Devi far esplodere lì però Eh Amico mio Dietro di te Dietro di te Eh vai Guarda come va Scatti Che schifo La live scattosa La chiamerò Perché È una live scattosa Anche senza motivo Però è così Comunque Stiamo andando piuttosto bene Mi pare di vedere Oddio Dietro 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 Oh ho preso il medikit Allora O lo ammazzi O lo ammazzi Bravo Ok Allora Io sono con sto tizio Non so che sto facendo qua Perché in realtà Non sta succedendo niente Che stiamo facendo qua Signor Neocore Cioè Attacchiamo Vai sul punto di controllo Vai vieni Vieni sul punto di controllo Coglione Vieni verso di me Non ammazzare Non farti vedere Andavamo Attaccavamo Era vinta Attento Attento Dietro di te Dietro di te Dietro di te Come faccio io Siamo circondati Ciao Gecko Aiutami soldatino Vado con gli altri miei amici adesso Così impari a fare il coglione E l'ho anche salvato Questo è il bello Attacchiamo Vai soldato Vai Questa è vinta Guarda Questa è vinta Questa è vinta Questa è vinta Olle E caso 90 Ovviamente Primo Perché È vinta E vi quando è vinta è così Seguimi Vai Signor scout Guarda quello quanto salta Ma che si conga ragazzi Ok È finita che la mappa Quindi si cambia Vai Ok gente Nuova mappa Siamo qua su Snowplot Snowplot Si chiama Si E hanno già Ok perfetto È andato avanti il carrello E io ero In mezzo Totalmente In mezzo Si Almeno così Avete imparato Assieme a me Che il carrello Vi può schiacciare Se va avanti Io vi sono messo in mezzo Tipo Ma non gli fa niente Non gli fa niente Andiamo avanti Vediamo di curare Sto tizio qua Già che ci siamo Andiamo avanti Ma rissego sto soldato Mi piace di più Mi piace di più I soldi Vai Vieni qua Soldi Vieni qua Ti curo io Vai Cerchiamo di Di prendere questo Ma non c'è difesa Non ho ben capito il motivo Vabbè Quello si è spostato malamente E abbiamo conquistato Quest'altro punto E il Il treno va avanti Il treno va avanti Snowplot Regna proprio Che cacchio Ok Questo stava Stava semplicemente Si stava divertendo Semplicemente E L'abbiamo massacrato Tipo Allora Questo è l'ultimo punto di controllo L'abbiamo già vinto Cioè in meno di un minuto È viva What Ah ma la gente c'è Nell'altro team Perché non va Tieni vai Ti do anche un uber carica Ha fatto Tanks E si è fatto esplodere Giustamente Perché non è Non è granché E ora riempio Sta spia Di robe Tiè Mi diverto così No in realtà Dovrei prendere E farmi l'uber carica Visto Visto che ci siamo Ok Però perlomeno Vediamo anche la seconda parte Tutto Tutto in un video Quindi Non è cosa Cosa brutta Snow Questo è SpongeBob Snowplot Mi piace particolarmente Come Come modalità di gioco L'hanno fatta Molto molto carina Anche perché A me piacciono Le mappe Attacca Attacca difendi Quindi Cacchio Molto bella Come Come cosa Mi serviva una nuova mappa Attacca difendi Davvero Non Non ce ne sono tante Piuttosto non sono tanto giocate Quindi Purtroppo Così va Guardiamo il referto medico Di qualcuno Nel mentre You're dead E butta Giustamente Aiuto Vai saltiamo Amico vai Salta 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 Saltiamo ovunque Adesso Da quello che ho notato Non c'è più Proprio bisogno Di Di saltare Nel momento esatto In cui salta L'avversario Cioè L'amico Che stai Che stai curando Ecco Puoi prendere E saltare direttamente Cioè Salta lui Da solo Mi ricordo Che prima dovevi saltare Nel momento proprio esatto Invece ora È una cosa totalmente diversa Quindi a me piace Sinceramente come cosa Ciao Chico Ti aiuto a Conquistare Oh scusa Tizzo Dammi un attimo Dammi un attimo Oddio Mi ha preso Mi ha preso Con un criticozzo In pieno Vai salta Mi piace Hai caccato il cacchio Però Tieni va Andiamo Seguiamo Abbiamo Tutti i demolitori Tipo Quanti Tre demolitori Sono Yeah No Sono vicinissimo È difficilissimo Saltare assieme agli altri Questo sappiate Non ho ancora usato La mia obercarica Quindi The best around Ok Non bloccarti Please È una delle mappe Che mi si blocca Di meno Oddio Me l'ho quasi ucciso Olè No Non mi puoi uccidere Non mi puoi uccidere Sino a che ho Sta roba Preso Aiutami scout Mado Mi ha centrato Con un critico Ma non vale mica Ma non vale mica Non vale mai Ma se mi centra Con un critico Non Proprio Non vale Punto e basta Allora dove devo andare io adesso Perché mi perdo ancora Ok Ok Non mi perdo più Sono arrivato Solitamente basta seguire i binari Ma La maggior parte delle volte Io li seguo al contrario I binari Quindi Vieni vieni No Lascialo a me Lascialo mai questo Sei un pazzo scatenato Ma chi è che mi sta facendo tutto sto danno Me lo spiega qualcuno Questo sto Ai Vai Ok Pensavo mi avesse colpito Qualcuno di loro Invece no Dietro Dietro di te tizio Dietro di te Grazie Vieni 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 Conquisto io Conquisto io Conquisto io Guarda Veloce quanto uno scout Adesso Oddio 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 Ole Abbiamo vinto Abbiamo vinto E gente direi che Dai vieni qua scout Ti curo Prima che tu possa morire Gente direi che Terminiamo anche qua Questo piccolo giro Col medico Di un paio di mappe Che ancora forse Non vi avevo fatto vedere Negli altri commentari E niente Ci vediamo ovviamente Al prossimo live commentare Su Team Forte 2 Ciao a tutti